Ciao a tutti ragazzi Oggi come vi ho messo Siamo in Juventus Conto in Barcellona Ho fatto una formazione mia da paura Diciamo, da paura Bello Aiuto Bello No Dai Passa Alla ballo su un mosso Aiuto Aiuto Andere Vai porno Oh Oh No 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 Facci 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 con tutta rabbia Faccio anche se necessario Come ti pare Guarda come fa Oh mio dio Quello è libero Si madonna nei marcos No 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 bello vai vai scatta, scatta, scatta vai velocità, puntano, vado no no bavo di bala grande vai palusca ta no no così dai ma sempre pala lu no o o o ho paura aiuto o 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 ma non più forte che un fisico bestiale grande, bravi tutti farlo scattare sono un bisonte in cerca di cibo e ti faccio vedere io o cos'è faccio il mio giocatore? non va bene non va bene non va bene chi manda? e infatti non ci sono mai parole è impossibile riprendere la partita hai morato il fisico della madonna mamma mamma c'è questo libro mamma mia per fortuna che l'ho visto per fortuna che l'ho visto perché se no mi cacciarono al col vai chi è quello là? chi è quello là? chi è quello là? c'è il gigio? allora chi c'è dai? mamma mia martìsio ma che cavolo fai? ti sei bevuto qualcosa? cos'è? cos'è? ragazzi no no beschäft perchè chiellini chiellini? cosa stai facendo? chiellini? bravo dai la palla al professionista ve che professionista dai la palla nooo come hai fatto come hai fatto no dai come hai fatto morata bravo è anatico tento questo qua Daniel Alves bravo morata dai bravo attenzione c'è di bala lì se è male non c'è male ma non c'è nulla non c'è nulla non c'è nulla ma non c'è nulla lo sapevo che sono aiuto 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 guarda porco godo prima 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 dalla prima Alex ragazzi dopo volete provare anche degli altri big match tipo Juventus Bayern Juventus Real tutte queste qua proverò a vincere ma sarà difficile almeno questo qua ho avuto un'occazione però l'ho sprecata dai Alex fai vedere sfruttare la tua velocità oh nooo siamo sempre lì siamo sempre dai aia su aia sfruttare la mi fa la finta raga c'è l'ho c'è l'ho c'è l'ho ma lo sapevo e te lo meriti te lo meriti Suarez denti da vampiro ha ha quanto godo ma quanto godo stra godo ragazzi raga madonna vedete vedete mia c'è l'ho 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 è l'ho è l'ho il Se salto per cento stiamo dominando. Eh, si è aspettato un attimo. Aiuto! Allora, vedi chi sono? Guarda, guarda, ciao. Ciao. Ciao, ciao. C'è colpa sulla mia scapola. Oh, cadono tutti? Cadono tutti? Sì! Sì! Goal! Vai così! Vabbè, vabbè, abbiamo bello, ci vogliono, abbiamo proprio gol. Ci vediamo la pasta, va tutto per me, vai. Ciao, tutti!